La vostra comtesse oggi è in vacanza. Mi sento nella dolce vita, immersa nel benessere di una jacuzzi e nel relax di questa località romana. Mentre mi coccolo il mio maggiordomo mi prepara la maschera di bellezza, vi parlerò del film più consono a questa situazione, La dolce vita di Federico Fellini. Un altro film con impianto narrativo episodi, sette per la precisione, che vedono come protagonista l'affascinante giornalista scrittore Marcello Rubini Mastroianni, disincantato, persino annoiato, troppo bello per non saperlo, troppo ambizioso per non entrare, illegittimo amante se vogliamo, nell'alta società. Ma nel film Marcello è solo la pedina, il personaggio archetipico di un'epoca italiana di boom economico, che vede anche valori traballanti nella coda dell'ultima luce per l'aristocrazia ormai già troppo imporghesita. È un film in cui l'italiano medio si può in qualche modo riconoscere, almeno nella speranza di una tendenza o tensione, alla superficialità e facilità di quei valori. Il valore è merce, il valore è consumo, il valore è numero. Fellini sembra dircelo creando due eccezioni che confermano la regola. La cameriera Paola, interpretata da Valeria Sciangottini, che aspira a diventare una dattilografa e santa alla mancanza della sua Umbria. È un musicista Enrico Steiner, circondato da un'eterogenea compagnia di intellettuali, poetessi, pittori, filo orientali, musicisti, scrittori. Il suo suicidio, seguito al terribile pariscidio dei due figlioletti, segna buco nero del film, il punto di non ritorno della rappresentazione di un iperintellettualismo alla fine. Io sono troppo serio per essere un dilettante, ma non abbastanza per diventare un professionista. Ecco, è meglio la vita più miserabile, credimi, che l'esistenza protetta da una società organizzata in cui tutto sia previsto, tutto perfetto. Roma e Vaticano, Piazza del Popolo, Fontana di Trevi, Scinecittà, Il Mare, il Castello di Bassano di Sutri, Fraigene. In questa Roma troviamo un richiamo alla chiesa e molti alla lussuria. Nightclubs, Pogliarelli, Alco, Sesso. Il dizionario Morandini descrive il film come una rappresentazione della Roma di quegli anni, raccontata come una Babilonia pre-cristiana e una materia da giornale in rotocalco trasfigurata in epica. E il film diventa uno spartiacco del cinema italiano più incerniera nella carriera di Fellini. De certo è interessante notare il significato al lato di una scena che passa un po' in secondo piano. Durante l'intervista alla bellissima attrice Silvia, una delle domande è «Il neorealismo è morto?» E il suo traduttore le suggerisce «Say your life». «Bien, M. Chouchou, guardatelo da soli e trovate l'affinità con l'aroma di oggi. Io lo farò adesso, qui nella mia jacuzzi. De sorte a vivere per voi. Au revoir.